Oggi siamo qui per festeggiare, tra virgolette, quello che è stato un bellissimo progetto, un Peterin molto importante, che Cuba ha cubato più di 8 milioni di euro, che ha servito tantissimo per le nostre terre alte. Le definiamo così perché sono terreni eroici, fatti di persone fantastiche, che però hanno bisogno, diciamo così, di aiuto, tra virgolette, proprio per poter mantenere quelle consuetudini, quelle usanze e quella cultura che solo nelle terre alte c'è. Passando dal passato al presente, dobbiamo guardare con grande soddisfazione al futuro. I fondi Alcotra sono molto importanti e hanno una dotazione capiente. Parliamo di oltre 150 milioni di euro a disposizione solo per le nostre regioni. Dobbiamo lavorare, fare progetti integrati, fare progetti importanti. Chiaro che non bisogna dimenticare le piccole realtà, ma la cosa più importante, come dicevamo, è fare dei progetti che abbiano la ciccia, in termini molto pratici perché se noi dobbiamo ragionare con piccole località e mettiamo poche risorse a disposizione, non vediamo la crescita di questi territori. Quindi quando parliamo di strutture, di infrastrutture, di servizi, devono essere integrati, devono essere grandi e capienti. Per cui i progetti devono essere solidi, con tanti denari da poter spendere e dobbiamo sentire sempre di più, quindi con una grande concertazione sul territorio, quelle che sono le necessità per poter fare sviluppo e crescita. Ascoltando i territori non si sbaglia mai perché le persone hanno tanta esperienza, soprattutto le persone che abitano nei territori trasfrontalieri, che hanno in comune con la Francia, con la Val d'Aosta, tante situazioni. Lo dicevamo prima, i territori prima della riconoscenza, possiamo dire, riconoscere le nostre regioni e i nostri stati, erano territori comuni, prima delle grandi guerre si parlavano le stesse lingue, le stesse usanze, la stessa cultura. Ecco, dobbiamo far riavvicinare questi popoli perché è proprio così che facciamo bene per i nostri territori.